I RAE non si abbandonano per strada. Facciamolo per l'ambiente. RAE non è una Berchise, è cascato! Ecco, te potresti essere un RAE! Che cosa sono i RAE? Lo chiediamo al nostro esperto. Ma che è? No, questo TV adesso è un RAE e va riciclato. Dai, andiamo al centro di raccolta RAE. Ciao, Solibello! Ragazzi, ma cosa fate qui per strada? Ci hanno abbandonati! Ma non si fa così! Sì, solo perché siamo dei RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Io ero il suo fond preferito e ora non funziono più. E io il vecchio microonde. Ok, ragazzi, siamo seri. I RAE non si abbandonano per strada in un cassonetto, ma vanno portati nei centri di raccolta. Così potranno essere riciclati. Capito? Informati su raccoltarae.it Un televisore, un phon, un microonde, un frullatore, un vibratore. C'è anche quello che funziona con l'energia elettrica, certo. E va riciclato. Scopri di più su raccoltarai.it